Siamo in vacanza ma non siamo propriamente in vacanza, bentornati e benvenuti amici FNAUTI. Oggi io ho una cosa incredibile da raccontarvi, una cosa che ha cambiato la mia vita e che potrebbe cambiare anche la vostra semplicemente perché non ve ne ha mai parlato nessuno e la cosa triste è che chi vuole insegnarvi la street photography neppure la conosce. Siete pronti? E allora cominciamo, dopo la sigla. Freedom, freedom, freedom. Ormai mi perdo in queste minchiate però dai iscrivetevi al canale, accendete la campanella e condividete subito il video che cominciamo con questa storia. Voi te lo siete mai chiesto cos'è che domina il nostro cervello? Si chiama processo mentale. E' quella parte del cervello che domina tutta quanta la nostra giornata, quella che non ha la pazienza per prendere nota di sfumature di colore, di toni o di relazioni spaziali. E' la parte del cervello che calcola velocemente la traiettoria di un oggetto che cade dal cielo e la sua velocità la calcola per capire dove dobbiamo metterci per evitare di essere colpiti. E' la parte che ci protegge, che ci ha permesso di conservare la nostra specie e di evolverci nel tempo, ma che a volte però ci impedisce di vedere oltre e di vedere per davvero. Quando io ho rischiato la cecità per via di un'emorragia oculare e dopo qualche mese ho riacquistato la vista soltanto all'occhio destro, l'unica cosa che potevo fare per superare questo handicap era osservare in modo attento, lento. Ecco, posso dire in modo molto molto lento. Io non ero ancora vecchio, anzi avevo appena 20 anni, però conoscevo già gli oggetti e le sue forme. Quindi sapevo che le lattine per esempio sono lucenti e sono cilindriche, l'Heineken è verde, le scatole sono rettangolari e il mio cane ha quattro zampe. Però c'è molto di più da vedere. Io vedevo per esperienze, come tutti quanti, ma vedere per esperienze non significa vedere per davvero. Il problema delle esperienze accumulate è che nella vita di tutti quanti i giorni, che è rivolta proprio alla sopravvivenza, non abbiamo il tempo e la necessità di studiare le sottigliezze di forme, di luci e di colori. Quindi, pur avendo guardato il mondo per tutta quanta la vita fino ad allora, io non capivo niente della scena che avevo di fronte e sono riuscito a capirla soltanto dopo che mi sono concesso il tempo per osservarla in tutti quanti i suoi dettagli. Quello che noi osserviamo non è la natura in sé, ma la natura esposta ai nostri metodi di indagine. È profonda questa frase, vero? Eh sì, perché non l'ho detta io. L'ha detto uno figo, un certo Heisenberg. E qui entra proprio in gioco la fotografia, perché i fotografi sfruttano quello che lo spettatore si aspetta di vedere per sorprenderlo con immagini che contraddicono quelle aspettative e per farlo devono sviluppare la loro stessa abilità a guardare oltre il valore funzionale di una scena. Questo è ovviamente molto difficile perché più è ricca la nostra esperienza, più il mondo ci appare familiare e gli diamo sempre meno attenzione. Cari amici e fenauti, la lezione che ho imparato da questa mia esperienza è che il mondo è molto più ricco di quello che noi pensiamo. Dobbiamo soltanto prenderci il tempo di osservarlo, di studiarlo e di ammirarlo. Che si tratti poi di disegno, di fotografia o di qualsiasi altra forma d'arte, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Perciò ricordatevi che dovete osservare il mondo con occhi nuovi, sempre, ogni volta. Ogni giorno noi viviamo un'esperienza dopo l'altra e con questa esperienza costruiamo un modello mentale del mondo. Questo modello ci aiuta ad identificare le cose, a prevedere il futuro e a capire come funziona il mondo intorno a noi. Se per esempio vediamo una sedia, diamo già per scontato che abbia quattro piedi, senza accorgerci magari che uno di questi è rotto prima di cadere. Possiamo anche leggere e capire le parole anche se manca qualche consonante al loro interno. E questo è tutto merito del processo mentale che ci costruiamo attraverso l'esperienza. Ma che cosa succede esattamente quando qualcosa non corrisponde alle nostre aspettative? Ecco, in quel caso il nostro cervello può diventare molto confuso. E questo può portare a una percezione errata della realtà. Avere un modello mentale del mondo, sofisticato, accurato e completo, ci permette sicuramente di fare delle cose straordinarie. Basta pensare alle grandi agilità che ci sono nello sport o anche a risolvere problemi complessi. Ma quando si tratta di creare arte o di generare nuove idee, l'esperienza può essere un ostacolo. Se non riusciamo a superare quello che ci aspettiamo di vedere, potremmo non riuscire mai a vederlo per davvero. Potremmo filtrare direttamente le informazioni senza nemmeno rendercene conto. E siete scettici su questo, lo capisco, ma guardate allora il video che vi lascio qua sopra nelle schede dove parlo dell'attenzione selettiva, perché vi sorprenderà come la nostra mente ci può ingannare. Noi siamo ogni giorno costantemente bombardati da tantissimi input sensoriali, ma possiamo elaborarne soltanto una piccola parte. E se io riesco oggi a convincervi che vedete molto meno di quello che pensate, la vostra intera esperienza sarà trasformata. Un mondo ricco che avete ignorato fino ad oggi vi si parerà davanti, proprio come è successo a me dopo che ho riacquistato la vista. Scattare fotografie, per esempio, è come focalizzare l'attenzione su frequenze che prima non esistevano. È come scoprire che la radio ha un numero il limitato di canali e non soltanto i 6 che abbiamo memorizzato in macchina. Ecco, quello che vedete con i vostri occhi è un'immagine composta da due immagini combinate per darvi un campo visivo di circa 180 gradi. Non è ampio come quello di un pesce, però è sufficiente per vedere le tigri nascoste nei cespugli e per percepire il movimento nella nostra visione periferica. Fissate per esempio la X in mezzo alle lettere che vi scrivo qui sotto. Senza muovere gli occhi, quante lettere potete leggere con sicurezza? Ecco, la maggior parte delle persone risponde che si possono leggere soltanto due o tre lettere su entrambi i lati della X. Infatti noi possiamo vedere con chiarezza soltanto l'1 o 2% dei 180 gradi del nostro campo visivo. E le macchine fotografiche? Con alcune eccezioni, le macchine fotografiche hanno un unico obiettivo. Vedono in modo più o meno definito all'interno del loro angolo di campo, che è molto più limitato rispetto al nostro. Soltanto gli obiettivi fisciai sono paragonabili ai nostri 180 gradi del campo visivo, ma le immagini che vengono scattati con questi obiettivi non hanno nulla in comune con la nostra esperienza visiva. E il perché ve lo spiego tra poco. Quindi, cari amici miei effenauti, la prossima volta che guardate qualcosa, provate a vederla per davvero. Potreste in questo modo scoprire un mondo che non sapevate nemmeno che esistesse. Esercitatevi a guardare e a orchestrare gesti, relazioni tra colori, forme, motivi, luci e anche ombre. Amplierete in questo modo non soltanto le vostre percezioni, ma anche la vostra abilità di costruire una storia per chi guarderà la vostra fotografia. I nostri occhi vedono il mondo in modo completamente diverso da una macchina fotografica. Avete mai notato come i vostri occhi si muovono rapidamente da un punto all'altro quando osservate qualcosa? Questi movimenti così veloci vengono chiamati saccadi e accadono in media 3-4 volte al secondo, però non finisce qui. Ci sono anche le micro saccadi, cioè movimenti ancora più piccoli e ancora più veloci che i nostri occhi compiono mentre si spostano su un oggetto che attira la nostra attenzione. A differenza di una macchina fotografica che cattura una scena intera in un singolo fotogramma statico, noi abbiamo una vista dinamica ed è questo che ci rende unici. Noi esploriamo il mondo con i nostri occhi, ma anche con la testa e perfino con il corpo e quindi non smettiamo mai di guardare e di mettere a fuoco. Se provassimo infatti a mantenere il nostro sguardo perfettamente fermo, l'immagine si sfocherebbe. Provateci. Noi non vediamo mai una scena intera in una volta soltanto, ma la nostra attenzione cosciente cambia di continuo, aggiornando la nostra vista. Immaginate per esempio di essere a una festa e di cercare di ascoltare anche ogni conversazione simultaneamente. Ecco, questa cosa è impossibile e lo sapete tutti, perché noi filtriamo quello che ascoltiamo, ma lo stesso lo facciamo anche con la vista. Accade la stessa cosa per la visione. Crediamo infatti di vedere un'intera scena in una volta soltanto, come una macchina fotografica, ma la nostra impressione è in realtà un collage di rapide istantanee. È il prodotto di uno sguardo in continuo movimento e di un'attenzione selettiva. Eppure ci sembra sempre di poter vedere la scena intera senza nessuna difficoltà. I neurologi hanno dimostrato in questo campo che per poter vedere veramente qualcosa dobbiamo sopprimere tutto il resto, perché abbiamo una visione limitata, ma noi non ci rendiamo conto di quello che stiamo perdendo. Quante volte avete pensato, ma perché la mia macchina fotografica non vede quello che vedo io? Perché nello scatto non c'è quello che a me è piaciuto? Ecco, è impossibile che una macchina fotografica registri le cose nel modo in cui le vediamo, perché la vista che pensiamo di avere semplicemente non esiste. Guardate quest'immagine qui, uno studio di Alfred Jarbus che mostra le saccate di cui vi parlavo prima, quando osserviamo un viso. L'immagine è la registrazione dei movimenti degli occhi di un osservatore mentre guarda un volto, ed è facile capire da questo studio dove si sofferma il nostro sguardo, cioè occhi, naso e bocca. La scena dove si concentra la nostra attenzione cosciente è molto molto stretta. Quindi se è vero che percepiamo molto meno di quanto immaginiamo, le fotografie possono farci vedere una gran parte di quello che abbiamo perso, nonostante tutte quante le loro limitazioni. Ed ecco perché Franco Vaccari, ve lo dicevo l'altro video, parla di inconscio tecnologico e insiste nel dire che la macchina fotografica vede più di noi, proprio perché non sopprime nulla all'interno della scena che stiamo catturando. La visione dell'uomo è un fenomeno affascinante, però è anche complesso, perciò la prossima volta che scattate una fotografia ricordatevi di questa differenza tra la visione dinamica che abbiamo e il fotogramma statico che invece cattura la nostra macchina fotografica. L'inquadratura fotografica è come una finestra che ci permette di guardare una fetta specifica del mondo, ma c'è una differenza enorme tra il modo in cui l'occhio umano guarda il mondo e quello che invece ci rivela la macchina fotografica. Noi come esseri umani abbiamo il controllo totale su tutto quello che osserviamo. Possiamo infatti girare la testa, possiamo spostare gli occhi, esplorare perciò ogni angolo che abbiamo di fronte, ma una macchina fotografica ci mostra soltanto quello che il fotografo vuole farci vedere, sempre che ovviamente il fotografo lo sappia. E questo è il motivo per cui oggi ve lo sto rivelando in questo video. Fotografare qualcosa significa inserire una cornice definita intorno alla sezione del mondo, cioè i contorni di quella sezione e l'inquadratura limitano quello che ci è concesso di vedere. Ovviamente l'occhio è libero di perlustrare tutta quanta l'immagine, però non possiamo vedere niente al di fuori di questa cornice. Questa inquadratura fissa comporta una serie di scelte difficili per il fotografo, deve decidere infatti che cosa includere e cosa omettere, e non è un compito facile. E in più il fotografo ha anche un'altra grande difficoltà da superare, e cioè deve comporre in modo efficace forme tridimensionali all'interno di un'immagine che è piatta. Questo non è facile perché il nostro modo di vedere non contempla un'inquadratura definita, è una capacità che può essere acquisita soltanto dopo un po' di studio e tanta tanta pratica. Ecco perché vi consiglio di iniziare a prenderci proprio confidenza, il motivo per cui ve ne parlo. Sono tutte queste le cose che dovete conoscere per diventare dei bravi street photographer, non la minchiata sullo stile o sugli slider di chiarezza e contrasto o ancora peggio sulla regola dei terzi. Le fotografie ci piacciono in parte per quello che non ci fanno vedere, perché semplificano il mondo e ci permettono di sperimentare una fetta più gestibile di vita. L'inquadratura può essere paragonata a una sorta di riflettore della nostra attenzione cosciente, che si concentra proprio su un certo tema o un oggetto all'interno di un flusso infinito di input visivi, come a teatro. Le fotografie sono la riproduzione bidimensionale di un mondo che invece è tridimensionale, quindi appiattiscono la prospettiva e spostano perciò l'attenzione sulle relazioni spaziali tra gli oggetti ripresi. Mentre la nostra attenzione consapevole tende a renderci ciechi verso tutto quello su cui non ci stiamo concentrando, le fotografie invece immobilizzano il mondo caotico e ci invitano a fare paragoni, ad esumere relazioni tra gli elementi presenti all'interno dell'inquadratura. L'inquadratura fotografica è un'arte, ma è anche una scienza. È un modo per raccontare una storia, per catturare un momento e per condividere una visione, la vostra visione. La prossima volta perciò che scattate una fotografia o che la guardate soltanto, pensate a tutte quante le scelte e le considerazioni che ci sono dietro e ricordatevi che ogni inquadratura è una finestra su un mondo che soltanto voi potete mostrare. Guardate questa immagine che vi lascio adesso, l'ho scattata apposta per ingannarvi e in disaccordo infatti con il nostro modello mentale di come dovrebbe sembrare il mondo. L'ho pensata apposta per farvi pensare a qualcosa a prima vista, invogliarvi a guardarla meglio e poi, boom, sorprendervi. Perché questa immagine suscita un moto di sorpresa quando il vero punto di osservazione viene rivelato. E anche dopo aver capito che si tratta di un trucco fotografico, rimane comunque impossibile non rivivere quel momento di sorpresa ogni volta che la si riguarda. Vi sembrerà che questa immagine io l'abbia scattata dall'alto verso il basso, ma è esattamente il contrario, perché ho tolto dall'inquadratura ogni riferimento. Questo è il potere della fotografia. La fotografia può giocare con la nostra percezione, può sfidare le nostre aspettative e regalarci momenti di pura sorpresa e di meraviglia. È un'arte che va oltre la semplice cattura di un'immagine. È un modo per raccontare storie, creare emozioni e perfino ingannare i nostri occhi. Perciò la prossima volta che vedete una fotografia che sembra strana o impossibile, prendetevi un momento per esaminarla più da vicino. Potreste scoprire che c'è molto di più di quello che appare a prima vista e chissà, potreste anche sentirvi ispirati per creare le vostre immagini successive. E detto questo, vi saluto e vi auguro buone vacanze. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!